Ai 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 ragazzi, c'è già, non c'è più, c'è già, non c'è più. Vi do il benvenuto a tutti quanti in questo nuovo video, io sono Max, per chi non mi conoscesse, parliamo di Grande Fratello Vip e di un'eliminazione l'ennesima di questa casa. Si tratta della seconda eliminazione da questo gioco e è toccato stavolta l'attrice psicologa che non è stata salvata quindi da nessuno. Sì, pensate, soltanto il 9% dei votanti, cioè appena. Poco dopo, una volta da Alfonso Signolini, Geggia ha fatto notare che sicuramente la vicenda Marco Bellavia ha pesantemente influito sul suo percorso all'interno della casa, ma non soltanto questo. Non è escluso, infatti, che quella brutta storia avrà degli effetti negativi anche nella sua vita privata. Da quel che si dice, infatti, l'ordine degli psicologi ha radiato la donna dopo quelle brutte parole, ma non è finita riguardo alle nomination. Ad essere immuni questa settimana sono E le opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, hanno invece scelto di salvare dalle nomination rispettivamente Alberto De Pisis e Charlie Gnocchi. E, a parte questo, a finire in nomination, quindi, sono Antonino Spinalbese, Sofia Giaele De Donà e Nikita Pelison. E, come sempre, il più votato dal pubblico sarà immune la prossima settimana. Altro momento caldo della serata che c'è stato è stato quello della presunta bestemmia. Sì, chi ha visto tutta la diretta avrà notato che, a fine serata, il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha annunciato che, alla produzione, è stata segnalata, appunto, questa parolina avvenuta proprio in diretta. A questo punto il direttore di chi ha spiegato che nei prossimi giorni verranno fatti dei controlli, cioè non è che possono espellere le persone così, servono prove. E quindi si riguarderanno le registrazioni, si pizzicherà il momento e si analizzerà bene. Quindi, sto parlando però esattamente di Amauris Peres, che non di certo che è per la prima volta, insomma, gli è scappato già qualche altra volta. E quindi si è lasciato scappare questa presunta impregazione che ora dovrà essere sicuramente verificata dagli autori del programma. Altro momento epico, perché non è finita, quando, durante il televoto, la regia ha mandato per sbaglio, per sbaglio, una schermata con i volti di alcuni concorrenti. Tutti, ad eccezione di Gegia, Vilma Goic, Patrizia Rossetti, Elenoir Ferruzzi, Daniele Dal Moro, Carolina Marconi. Subito sono scaturite proteste sui social, tipo dicendo, oh, è tutto falso. Ma falso di cosa? Cioè, qualcuno comunque ha detto così, ma sarà davvero così? Lo scopriremo. Intanto, questo è tutto quanto per questo piccolo riassunto. Sicuramente ci rincontreremo in altri piccoli riassunti, perché dobbiamo analizzare bene tutto quello che è successo ieri nella diretta. Per ora vi ringrazio, un saluto grande da Max, e noi ci becchiamo alla prossima, sempre qui.